La finalità del convegno di oggi è quella di aiutare a far emergere nell'opinione pubblica, quindi anche in voi e nella classe politica in generale, intesa come opposizione e come governo, alcune proposte finanziarie semplici e fattibili, per permettere, come indicato nel titolo del convegno, che la finanza sia al servizio della politica e non viceversa. Oggi ascolterete alcune belle idee, supportate da serie analisi scientifiche, alcune delle quali già note e condivise da anni dagli specialisti del settore. È importante dire che voi sappiate che tutte le proposte finanziarie che verranno oggi presentate sono assolutamente realizzabili nei limiti della Costituzione italiana e nei limiti dei trattati europei. Addirittura per la maggior parte di esse non è necessario nessun intervento di natura legislativa ma semplici provvedimenti di natura governativa o amministrativa. Quindi l'agurio è che la politica italiana ci ascolti, che le proposte vengano ritenute utili e che, come dire, si provveda ad adottarle il prima possibile. Vorrei brevissimamente raccontare il perché sono finito qui. Ma due parole giusto per poi inquadrare qual è, e Marco già è entrato in argomento, qual è il grande campo di pensione nel quale ci muoviamo. Qualche anno fa, stiamo parlando del periodo grosso della crisi, quindi 2012-2013, velleitariamente, ero ben consapevole di essere velleitario, ma voglio lo stesso affrontare l'argomento, scrissi che la Banca Centrale Europea, assegnatamente la Banca d'Italia quale componente, quale Banca Centrale Nazionale del sistema europeo di banche centrali, avrebbe potuto attivare un meccanismo specifico che si chiama ELA, Emergency Liquidity Assistance, per fare quella che gli economisti nel gergo conoscono come moneta-elicottero. Moneta-elicottero, che il grande economista e grande comunicatore Milton Friedman, sostanzialmente diceva, ci sono delle situazioni, non che lui necessariamente la auspicasse, ci sono situazioni, appunto, quelle di larga disoccupazione delle risorse, in cui un elicottero passa dai nostri cieli, lancia moneta che oggi noi creiamo a costo zero, questa moneta andrà a finire nelle tasche dei vari cittadini che spenderanno, attiveranno il moltiplicatore e si genereranno le risorse che occuperanno le risorse. Immagine molto comunicativa, appunto, che il professor Ben Bernanke, che allora non era ancora diventato governatore della Federal Reserve, quindi non stiamo parlando di un nessuno, sarebbe diventato il primo governatore del mondo, andò formalmente in visita, inizio anni 2000, in Giappone, per dire, appunto, usate la moneta-elicottero per curare i vostri problemi. Poi si dimenticò della moneta-elicottero nel momento in cui diventò governatore, non perché, credo io, si fosse convinto che non fosse più efficace, ma perché la moneta-elicottero, in realtà, mette insieme, e per questo è un'arma nucleare, mette insieme politica fiscale e politica monetaria, e quindi immaginate che la Fed vada al Congresso americano per proporre un piano di coordinamento che molti politici non digerebbero, probabilmente lui avrà, ma questa è la mia ricostruzione, avrà pensato che era molto più facile creare uno strumento quale il quantitative easing, peraltro assai meno efficace, ma che comunque restava sotto il suo controllo, che non invocare il supporto e l'appoggio del Congresso. Non appunto, tornando al discorso, non immaginavo certo che la Banca d'Italia si mettesse a far questo, non lo avrebbe fatto e non lo farà mai, ma volevo portare all'attenzione, insieme ad altri, non ero certo il solo, l'attenzione di quest'idea, che non era mia, era ben più autorevolmente espressa e ripresa da Bernanke e da altri studiosi. Convinto che naturalmente questo dal punto di vista pratico non avrebbe portato a nulla, casualmente, e forse poi nemmeno tanto casualmente, i percorsi di vita del dottor Cattaneo e del sottoscritto, c'era anche Zibordi allora, si incrociano e vengo a conoscenza di questa idea di cui autore è e resta Cattaneo e mi convinco che in realtà era un altro modo per realizzare la stessa idea. Non distribuisci moneta legale, perché Marco ci ha detto che la moneta fiscale non sarebbe moneta legale, ma distribuisci uno strumento che diventa un'attività quasi monetaria, convertibile in moneta o addirittura utilizzabile direttamente in moneta, che è un'attività netta per le famiglie, che è lo Stato a piena sovranità di immettere nel circuito economico, che diventa spesa e che diventa quindi produzione di output, diventa anche fatto molto importante, perché non è la pietra filosofale, perché si mette in circolo un titolo che, per come abbiamo disegnato noi, dà diritto all'esercizio di questo sconto fiscale a partire dai due anni successivi alla data di emissione. Quindi c'è un differimento, c'è un periodo di differimento, poi l'abbiamo definito di due anni, ma potrebbero essere tre, potrebbero essere anche meno. Però riteniamo che due anni siano sufficienti affinché questa massa di spesa che avrebbe luogo, assegnando gratuitamente il titolo a varie categorie sociali, avrebbe il tempo di generare risorse aggiuntive, output, e questa a sua volta generare risorse fiscali, tali da coprire il costo, perché qual è il costo fiscale? A differenza della moneta elicottero, la quale moneta elicottero è un titolo irredimibile, gli euro non sono un debito della banca centrale. Se vado in banca centrale a Francoforte, do un euro, mi ridano un euro. Non ho diritto a scambiarlo, e loro non hanno il dovere a scambiarlo con null'altro che un euro. Qui no, qui c'è un impegno dello Stato a far valere a due anni della scadenza questo strumento come un diritto a uno sconto fiscale, il che equivale che naturalmente fra due anni, se tutto il resto resta fermo, fra due anni lo Stato si ritrova con meno introiti fiscali. Qual è dunque il ragionamento? Che nell'arco dei due anni si generino attraverso la ripresa economica le risorse fiscali sufficienti a coprire il costo fiscale dell'operazione. Abbiamo contemplato, come gruppo, e vorrei ricordare che questo piccolo gruppo fa parte del dottor Stefano Stiloslabini e il professor Costa, che oggi non è qui con noi, eminente accademico esperto di problemi di contabilità. Tra l'altro sulla contabilità vorrei tornare un momento. Questo gruppo ha fatto anche delle simulazioni naturalmente per verificare quale possa essere l'effettiva efficacia dello strumento e sotto ipotesi abbastanza prudenziali sia del cosiddetto moltiplicatore, cioè se spendo oggi uno, quanto questo uno mi rende, e sulla base anche di stile prudenziali del cosiddetto acceleratore, che altro non è che se le imprese si accorgono che la domanda cresce sono indotte a investire, quindi sotto queste ipotesi volutamente prudenziali, più la terza ipotesi, la terza caratteristica dello strumento, che una volta assegnato alle imprese queste si vedono di colpo abbattere il cuneo fiscale, richiesta che fanno da anni e che ovviamente non la si può soddisfare perché avrebbe immediati impatti di bilancio, mettendo insieme questi ingredienti la manovra è autosostenibile. Nell'eventualità che non fosse tale, e questa naturalmente potrebbe essere la preoccupazione dell'Europa, potrebbe essere la preoccupazione più che legistica dei mercati, abbiamo pensato a misure di salvaguardia automatiche che laddove ci fossero i primi segnali che la manovra non si autoripaga, intervengono e fanno scattare dei meccanismi di correzione, come dire, fiscale, che attutirebbero e assorbirebbero gli squilibri. Quindi non si tratta appunto di pietra filosofale, ma di qualcosa che rimette in moto e intende rimettere in moto questa economia che altrimenti non rimettiamo in moto, perché allora possiamo pure criticare la moneta fiscale, possiamo pure immaginare che non funzioni, ma il dovere a questo punto dei critici non è più, vista la situazione, soltanto di criticare, ma di dire non funziona questa, facciamo funzionare qualcos'altro. Quello che è inaccettabile è immaginare che noi ci condanniamo a un declino o a un crollo che può sempre avvenire senza mettere mano a un qualche strumento di difesa. Questo, i cittadini, ancora prima che da tecnici, è inaccettabile. E quando ci siamo sentiti rivolgere l'accusa di cattivi maestri, tra l'altro su un organo molto importante di comunicazione, beh, non vogliamo essere maestri di nessuno, ma certamente non siamo noi cattivi. Ora, il problema che leggiamo proprio in queste ore sui giornali il 2% va bene, nel 2,1, il 2,4, l'1,6, allora il punto è che noi non possiamo immaginare di, a parte che esiste un vincolo giuridico chiamato fiscal compact, in base al quale dobbiamo attenerci dei parametri, ma il problema di attenerci dei parametri non è perché dobbiamo rispettare le leggi, è perché non possiamo ancora aumentare la nostra dipendenza dei mercati, che è il tema magnificamente sottolineato all'inizio. non possiamo immaginare di finanziare, per quanto fondamentalmente importante, di finanziare spese aggiuntive ricorrendo ancora al debito, perché continuiamo a consegnarci mani, piedi, testa e quant'altro a meccanismi che non controlliamo, nell'ambito di una governance che certamente non c'è favorevole a essere eufemistici. Quindi dobbiamo puntare esattamente al discorso opposto, trovare uno spazio per tornare a essere autonomi, bloccare la crescita del debito, che è quello che con la moneta fiscale si intenderebbe fare, blocchiamo la crescita del debito, mettiamo in moto il meccanismo di crescita e facciamo sì finalmente che il rapporto debito-PIL decresca, l'obiettivo sacrosanto che tutti noi cittadini dovremmo imporci. Quindi il 2-1 e il 2-2, anche se non riuscissimo a conquistarlo, e sicuramente si farà festa perché si dirà che abbiamo vinto in Europa, ci hanno dato ragione e quant'altro, in realtà ci facciamo danni. Ci facciamo danni. Noi dobbiamo uscire da quella trappola. Dobbiamo muovere esattamente nella direzione opposta. Chiedo scusa, verifico se ho esaurito i miei punti. Volevo semplicemente aggiungere a questo, ne aveva già parlato Marco, da dove nasce tutto questo? Nasce effettivamente, ma rendiamocene conto, dall'impossibilità di rimettere mani ai trattati. Adesso se noi immaginassimo che di volerci dotare di una banca centrale europea che non si limitasse a perseguire soltanto la stabilità dei prezzi, come un dogma indiscutibile, ma anche come fa la Federa di Sede, per esempio, a puntare come obiettivo altrettanto importante al perseguimento del pieno impiego, ma voi immaginate che questa misura e questo il cambiamento degli obiettivi o l'ampliamento degli obiettivi della Banca Centrale Europea, ma pensiamo seriamente che qualcuno in Europa, qualcuno poi significa che i comandi, i tedeschi e quant'altro, ce lo lascerebbero passare. Impensabile. Dunque, non stiamo a perdere tempo con cose che sappiamo già che non sono realizzate. Chi dice che bisogna riformare Europa? Io francamente sono un sostenitore dell'Europa. Mi piacerebbe rivedere i meccanismi di governance, mi piacerebbe che ci fosse una politica fiscale che, come negli Stati Uniti, in tutte le unioni monetari, serve a riequilibrare gli scompensi quando si verificano. Ma chi pensa in Europa di usare la politica fiscale per riequilibrare? I tedeschi non ci pensano minimamente. Allora, finiamola di immaginare e di richiamarci a velleitarie, quelle sì, molto più che la moneta elicottero, di immaginare velleitaristicamente che qualcuno accetterà di rivedere in questi sensi trattati e rendere, tra l'altro, ma più che riformare il trattato, perché io inviterei tutti a rileggere l'articolo 3 del trattato di Lisbona, se ci si limitasse veramente, se si volesse realmente perseguire quel trattato, l'Europa andrebbe ridisegnata. Quindi, gli obiettivi sacrosanti ci sono già nelle carte sacre. Si perseguono altri obiettivi e non abbiamo la forza di opporci. Quindi possiamo soltanto renderci più autonomi. grazie a tutti. Grazie a tutti.